Ciao tutti ragazzi, abbiamo visto il prossimo video. Oggi sto giocando Rainbow Friends. Ebbene si ragazzi, cercherò di arrivare fino alla fine. L'ultimo, l'ultimo, non si può più uscire. Siamo 15 su 15. e ora in questi capitoli sono usciti il giallo che sarebbe un uccello e il ciano che bisogna mettere a scatola e stare fermi poi tutto il resto è normale sono riuscita ad arrivare fino alla fine però ho detto ma dai, rifacciamolo con i nostri amici i nostri fan e allora che dire lo rifacciamo saltiamo questa parte tanto non ci importa sappiamo già tutto salta aspettate che scrivo il schifo aspettate che spettate che spettate Ok, va bene ragazzi, ecco perché non mi aiutate tutti a trovare la luce SOS, ogni parco a te ma ne ha una. Ecco, questo è il signore con la testa che farà uscire il verde e il blu da questo garage, ciao verde, tu sei cieco, ciao blu, mamma mia, e via, sarà divertente, sì, vedremo, vado a prendere gli altri, oh mamma mia, vedremo se sarà veramente divertente, secondo me no per niente, dobbiamo cercare 25 lampadine e ognuno ne possiamo prendere 6-7, non lo so quante ne possiamo prendere, perché io ne prendevo 5-6, è già una che l'ho presa. Ok, e Stefani, subito, usiamo questo. Io vado dal viola. Ok, va, andiamo dal viola, accovacciamoci. Non l'hanno presa, è tu te, mia. Per andare dal viola dovete essere accovacciati, raga. Poi io rimango tutto il tempo accovacciata, non si sa mai. Poi ragazzi, tranquilli, se siete nel primo capitolo, state tranquilli perché non ci sono il ciano e il giallo, al secondo capitolo ci sono il giallo e il ciano. Ma qua no, poi ve li farò vedere. Ma, rifacciamolo. Eccomi di nuovo ragazzi. Quindi siamo di nuovo tornati all'inizio. Già è andata male, perché cosa? Perché, bravi, perché sono morta, giusto? Ecco, lo prendo è questo. Sì, ma il verde è rimasto tanto tempo. Cioè, ma, vede, ma levati per un po', dico io, va. No? Vedete, siamo già a quattro. Brava. Ok. Ma. Mi metto a giocare. Ah. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, una. Blu. Ok. Basta. Andiamo piano, 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 c'è il verde, c'è il verde, mi sta per prendere. Diciotto. Piano. Bravo. Bravo. Uh, bello qui. Altro. C'è, ma, guarda che sono nella seconda partita. Sono una pro. Gamer. C'è il verde, c'è il verde, c'è il verde. L'orwardia. Qui, attenti. Ok. Ora siamo a ventuno lampadina, perché io ne ho tre. Ah, ventuno e due addirittura. L'ho presa, l'ho presa, l'ho presa, e l'ho presa. Giro, giro, tondo, casca il mondo, Elsa GMA è stato trovato. Venti due, altre tre, altre tre lampadine mancano. Tre lampadine, tre sono piccoline. Mini, 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 mini. Raga, ma non riesco a trovarle, queste tre lampadine. Io nel frattempo vado a giocare di sotto. Vado a giocare di sotto. Ecco qui. Qui possiamo giocare. Siediti. Faccio la gara delle macchinine. Woohoo. Yeee. Ok, questo va bene. Dai, che ce la sto facendo? Dai, 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 dai. Ehi, dai, 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 dai. Yeah. Ho vinto, ciao. Ok. Ho altre due, neanche... Oh, mamma mia. Vediamo almeno se qua sopra c'è qualcuno. Di pochissimo, raga. Pochissimo mi prendeva, raga. Sono stata fortunata. Non mi hai preso. Non mi hai preso. Non mi hai preso. Dove sono le ultime due? Raga, le ultime due... Ah, una, una, una. Tira, tira. Ecco. Ecco, è così, là. Di qua, di qua. Una. Ecco, qui, raga. No, mamma mia, raga, raga. Se la porto, raga. Devo riportarla ora, raga. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oh, no. Ho un'ansia, però. Ho troppa, 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 troppa ansia. L'ultima sono io, sono io, l'ultima, l'ultima. Oh. Sì, raga, ci abbiamo fatto. Oh, no. Oh, no, no, no. Ci abbiamo fatto, posto che non ci sia il verde. È come non detto, raga. Finito. Vabbè, ragazzi, per oggi vi riesco qui. Ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao, ciao. 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 Grazie.